Ciao a tutti amici di TechAndroid! Gli operatori virtuali sono ormai la nuova frontiera perché grazie ad accordi con le compagnie telefoniche riescono a garantire una buona connessione dati senza richiedere delle spese esagerate. Un esempio è dato da Poste Mobile che è di proprietà di Poste Italiane ma si poggia sulla rete telefonica Wind. Ma allora vediamo cosa ha attualmente da offrirci questo operatore virtuale. La migliore promozione attualmente sul mercato di Poste Mobile è sicuramente la CreaMe Next 6. Con questa avremo 50 giga di traffico dati e tutto illimitato per una spesa mensile di circa 8,30 euro. Diciamo circa perché questa promozione è rinnovabile ogni 6 mesi. Quindi ogni 6 mesi verranno detratti dal credito residuo della SIM 50 euro. Bisogna poi puntualizzare che per tutto illimitato si intende credit dove un credit equivale ad un minuto o ad un SMS. Tuttavia essendo illimitati non ci interessa andare a fondo alla questione. Quindi ricapitolando, sotto copertura di rete Wind, Poste Mobili offre 50 giga di traffico dati e SMS e minuti illimitati a 50 euro a semestre. Quindi per una spesa mensile di 8,30 euro. Questa promozione è attivabile sia da chi è già cliente Poste Mobile così come da chi intende affacciarsi a questa frontiera. Per chi non è già cliente della Poste Mobile può comunque attivare quindi Creaminex 6 con la portabilità del proprio numero da qualsiasi operatore telefonico da cui sta provenendo. Non c'è bisogno di intestarlo ad un conto corrente perché tanto i 50 euro semestrali vanno ad essere scalati direttamente dal credito residuo della SIM. Quindi l'accortezza è quella di ricordarsi che nel mese di scadenza bisognerà avere questi 50 euro sulla SIM. Per rimanere aggiornati sulle migliori promozioni e tariffe che i nostri operatori telefonici possono garantirci, vi consiglio di continuare a seguire il nostro canale. Se non siete già iscritti al nostro canale YouTube iscrivetevi e vi ricordo anche che siamo su tutte le altre piattaforme social quali Facebook, Instagram e il canale delle offerte di Telegram. Trovate tutto nel link in descrizione e ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao! Ciao!